Non è certo la migliore sfida per iniziare il nuovo anno, giocare nel Tempio del Calcio al cospetto della società italiana più titolata al mondo dà sempre una certa emozione e crea una bella suggestione. In realtà non è più il Milan dei tempi passati, però sostanzialmente è una squadra che se la si analizza nei singoli individui può competere alla grande anche con le formazioni tra virgolette meglio allestite per questo campionato e non solo. Del resto al di là della posizione in classifica ha raggiunto a dispetto di altre formazioni meglio approntate la semifinale di Coppa Italia ed è in corsa anche in Europa League con tutte le soluzioni che comportano eventuali vittorie di questi tornei che potrebbero salvare una stagione altalenante e non certo esaltante almeno finora così come ci si aspettava dopo il mercato estivo. Il Milan è alla ricerca di un'identità, il Crotone forse da questo punto di vista sta meglio. Nessuno parte sconfitto in partenza ma se dovessimo dare un pronostico probabilmente sapremmo cosa giocare e anche solo contenere il passivo per il Crotone così come contro il Napoli potrebbe essere un buon risultato. Non siamo pessimisti, non lo siamo di natura, ma l'ottimista solitamente cammina sulle nuvole. Abraham Lincoln diceva possiamo lamentarci perché i cespugli di rose hanno le spine o gioire perché i cespugli spinosi hanno le rose. E in questa frase sono riacchiusi il dilemma e la svolta che potrà scaturirne dal risultato di oggi pomeriggio. Uscire indenni da San Siro aumenta l'autostima e ci piace valutare con piacere i concetti che rassentano la filosofia estremamente saggi di Mr. Zenga. Quando ai suoi proclama di giocare con gioia al cospetto delle grandi in considerazione al fatto che non si ha molto da perdere. Forse un po' meno accettiamo la considerazione rispetto al fatto che i suoi giocatori siano i più forti. Ma lo spirito positivo con il quale la esprime è tra l'altro coinvolgente, non dispiace affatto. Difatti la squadra ci è sembrata più spigliata, più convinta e nonostante una classifica avversa anche più serena. Sarà cenere, sarà carbone o sarà un dolce regalo? Nel pomeriggio di oggi il campo sentenzerà. E come quando ai bambini si dà il carbone zuccherato a mo' di burla dicendo loro che non sono stati bravi, speriamo che alla fine arrivi il bel regalo. Seconda e ultima cosa, se non rischia di essere un po' una trappolina, pensare al calendario delle prime 5-6 partite, insomma a parte la Lazio. Non ci ha portato da nessuna parte perché quando pensavamo che era sempre facile abbiamo preso sempre nei denti, guarda Benevento, guarda Verona. In questo momento noi non siamo in una condizione che possiamo sottovalutare o fare dei calcoli. Noi dobbiamo preparare partita dopo partita e dopo vediamo dove arriviamo, ma non siamo in questo momento, non abbiamo la freschezza mentale e fisica di dire giochiamo con freno a mano tirato o facciamo dei calcoli, no? Dobbiamo pensare a partita dopo partita e dopo vediamo. Ciao Rino, hai parlato di finale di Champions prima di Benevento, finale mondiale prima del derby di Coppa Italia, quella di domani che titolo può avere a livello di partita? E su Cialanoglu se è già in condizione per poter fare quel ruolo di mezzala di cui parlavi precedentemente e che aveva fatto anche il Bundesliga? In questo momento c'è ancora da lavorare per coprire il ruolo di mezzala, nel senso di migliorare i concetti, di migliorare, deve saper tenere meglio il campo. Sicuramente il ruolo che in questo momento riesce a far bene, che lo interpreta in modo migliore è quello che lo state vedendo le ultime due partite, sia con l'Inter che con la Fiorentina. L'altra qual'era? Sulla partita di domani? No, nessun titolo, il titolo è di non pensare ai bagagli, nel senso pensiamo alla partita perché sarà una partita molto molto difficile e complicata, me ne so convinto di questo.